Consacrazione al Cuore Immacolato della Santissima Vergine Maria, Luz de Maria, Agosto 2011 Io, mi affido, Madre, alla Tua protezione e alla Tua guida, non voglio camminare da sola in mezzo alla tempesta di questo mondo, mi presento davanti a Te, Madre del Divino Amore, a mani vuote, ma con il mio cuore colmo d'amore e di speranza nella Tua intercessione, ti prego di insegnarmi ad amare la Santissima Trinità con il tuo stesso amore, perché non sia indifferente al suo appello, né indifferente all'umanità, prendi la mia mente, il mio pensiero, il cosciente e l'incosciente, il mio cuore, i miei desideri, le mie aspettative ed unifica il mio essere alla volontà trinitaria, come lo facesti tu, affinché la parola di tuo figlio non cada su un terreno arido, Madre, unita alla Chiesa, corpo mistico di Cristo, sanguinante e disprezzato in questo momento di tenebra, elevo a Te la mia voce supplicante, affinché la discordia tra gli uomini e tra i popoli sia annichilita dal tuo amore materno, Madre Santissima, oggi ti consacro solennemente tutta la mia vita, fin dalla mia nascita, nel pieno utilizzo della mia libertà, rifiuto il demonio e le sue macchinazioni e mi consacro il tuo cuore immacolato, prendimi per mano da questo momento in poi e nell'ora della mia morte, presentami davanti al tuo divin figlio, permetti, Madre di bontà che, per mano degli angeli, questa mia consacrazione venga portata ad ogni cuore, così che si ripeta all'infinito in ogni essere umano, Amen.